Effettuare i lavori di ripristino e manutenzione degli alloggi di edilizia popolare sfitti perché vengano rapidamente riutilizzati è questa la finalità di un intervento da 10 milioni di euro approvato dalla giunta regionale nella sua ultima seduta. L'intervento permetterà secondo le stime di rimettere rapidamente a disposizione circa 500 alloggi a beneficio di chi è in attesa. Si cerca in questo modo di dare una risposta importante all'emergenza abitativa e alla forte necessità di alloggi pubblici che avverrà utilizzando il patrimonio disponibile intervenendo su immobili che necessitano di ristrutturazione per poter essere assegnati. Questo intervento fa parte del piano regionale per la casa approvato di recente. Un intervento secondo le intenzioni dei promotori che permetterà di intervenire sugli alloggi da ripristinare consentendo ai soggetti gestori e ai comuni di aumentare il numero degli alloggi a disposizione in tempi ragionevolmente brevi. Con le risorse messe a disposizione comincia a concretizzarsi il piano casa della Toscana finanziato interamente con risorse regionali. Secondo il dodicesimo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana il 9,1% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica pur essendo liberi non possono essere utilizzati in quanto bisognosi di interventi. Grazie a questo finanziamento si potrà intervenire prioritariamente sugli alloggi sfitti mediante assegnazione di risorse soggetti gestori del patrimonio affinché gli stessi provvedano con l'attivazione e l'esecuzione delle misure di ripristino necessarie. La tipologia di interventi riguarda il recupero, l'adeguamento funzionale, la messa a norma impianti, la manutenzione straordinaria compresi gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica degli alloggi.